Mi sembra eccessivo 100 all'ora, troppo poco. 120 potrei comprenderlo, ma 100 mi sembra veramente poco. Nell'estate famosa di 110 all'ora sembravano delle processioni interminabili di auto, non si arrivava mai. 120 potrebbe essere giusto, però 100 all'ora onestamente mi sembra veramente poco per un'autostrada scorrevole come questa. Ma io penso che sia una benemerita, non posso dire altro perché siamo in televisione, però è una cosa assurda. In autostrada di 100 all'ora è inutile andare in autostrada, si potrebbe andare sulla nazionale. Già si paga il servizio dell'autostrada, secondo me bisogna pagarlo, però anche usufruire del servizio. Bisogna essere l'autostrada libera e anche il limite di velocità minore dei 130 attuali, secondo la mia opinione. Io come pensiero strettamente personale mi sembrerebbe un limite eccessivamente basso. Avendo il 130 in gran parte dell'autostrada italiana a me sembrerebbe tutto qua, abbastanza basso come limite, mettere il 100 come limite massimale sull'autostrada del brand. È il traffico che decide la velocità. Già nelle giornate come oggi è 110, però non è un'autostrada dove normalmente la gente corre di suo, perché è già abbastanza trafficata e il traffico pesante fa in modo già di limitare le velocità. Non penso che serva molto alla fine, perché la velocità non è alta in questa autostrada. Follia pura, secondo me è follia pura. Ci sono tante strade, io arrivo dalla zona di Como, ci sono tante strade dove si potrebbe veramente andare qualcosina di più, abbassare ulteriormente le velocità, io farei più controlli magari. Io dico che ci sarebbe altre cose di cui parlare e che spiegare ai politici, a quello che fanno queste proposte, che le macchine sono cambiate negli ultimi 80 anni. Non si è più la 500 della mamma o della nonna che andava ai 50 l'ora e splodevano le gomme. Oggi sono delle vetture che ai 100 l'ora sono molto ma molto più sicure. Per ridurre ancora i limiti, a questo punto è inutile andare in autostrada, spiegateli qualcosa a questi qua su. Che forse loro la macchina non l'ha mai guidata, perché c'è un autista e quindi non hanno bisogno.